Il futuro dell'attaccante del Modena ed ex Verona, Nicola Ferrari, è incerto. Infatti, per lui sono in fila diversi club di serie cadetta, con la Virtus Entella in prima fila. Intanto, per saperne di più, abbiamo contattato il patron dei canarini, Antonio Caliendo. Presidente, può dirci a che punto è il discorso con la Virtus Entella per Ferrari? Al momento siamo distanti, onestamente considero Ferrari incedibile. Ovviamente fino alla chiusura del mercato, tutto può accadere. Io presi grano che l'ultimo giorno utile, quindi, nulla è mai come sembra.